barzelletta del giorno uno va dell'investigatore e gli dice guarda mia moglie mi mette le corna quanto mi viene il preventivo dice guarda il petinamento durerà un mesetto mi porti le foto stavo intorno ai 3 400 euro al giorno dice ammazza io guadagno 600 euro al mese ma qualcosa di meno dice guarda va qua sotto da uccellario gli dice che ti mando io con 10 euro ti prendi il merlo del bengala quello ti dice vita morte e miracoli di tutti i spostamenti che fa tu moglie ma davvero scende va giù guarda che manda l'investigatore dice per merlo del bengala c'è aspetta che molto prendo scende giù e ritorna su con un pappagallo dentro la gabbietta ma io ho detto il merlo sì ma ho finito ma c'ho questo il pappagallo questa è infiata una mignotta questo dove mette al centro del salone o posizioni verso la camera da letto questo ti dice tutto quello che fa tu moglie ho capito ma io ne vedo manca di zampa a sto pappagallo lascia perdere questo perché è mutilato dalla nascita si regge col pisello si regge col pisello sull'asticella ma tu non lo tocchi questo vabbè se lo porta a casa lo mette al centro del salone alla moglie subito che è quel pappagallo ma non ti preoccupare questo l'ho comprato io ci sto attento io non ti preoccupare sta tranquilla allora mi raccomando adesso vado a lavorare stasera quando rientro mi devi di morte vite e miracoli tutto quello che ha fatto mi moglie capito va tranquillo questo va a lavorare la sera rientra allora allora com'è nata e com'è nata è venuto il postino il postino e che ha fatto ha dato la posta e poi se n'è nato ah poi poi è venuto il lattaglio il lattaglio e che ha fatto è entrato e poi ha lasciato il latte se n'è nato ah poi che è venuto poi è venuto all'idraulico l'idraulico e che ha fatto è nata al bagno e poi e tu moglie gli è nata appresso e poi e poi lui si è spogliato e poi e poi pure lei si è spogliata e poi e lui si è levato le mutande e dopo pure tu moglie si è levato le mutande reggiseno e poi e poi si è addrezzato il pisello si è cascato un visto più cazzo grazie